Siete pronti? Eh, guarda la pausa. Questa è buona? Oh, dammi un po' E tu fosti quello che facessi massaggi? Perché non sto facendo massaggi, stai se no. Ti avrà là. Allora, abbiamo preparato una bella base. L'occhio. E' l'occhio. Questo? Questo è? E poi tu lo hai tutti i contenuti, questo cosa? Guarda che se mi sta mettendo. Guarda che l'esterno di questa amica, mi bella vestiti. L'occhio. L'occhio. E' una viola. Oh, non è una colpa. Ma che non è buona? Ma ma che c'è il mito? Ma vai, vai, vai. Ma vai, vai, vai. Ma qua? Ma perché è viola? Dica il viola. Questo è tutto il bel fessimo. Ma legge questo forse. Stai nel sinuccio. Sì. Prepariamo la base. Ma che c'è il mito? 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 Sì. È tutto. Ma che c'è il caba? Ma che leggo? Ma che leggo? Fai un favore! Ma lonna! 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 per questo non mi abbruso ma non mi abbruso mi abbruso qua la bocca da bruci poi dalle sotto non mi abbruso ci sembra la crema non mi abbruso è buono ciò chiudi Così mi servono poco amati di questi sopracciglia, è l'eyeliner, ma sta tutta scala dintro. Che questo è? Eh però vabbè, questo è marrone, no che la tavola mi sei, l'eyeliner. Ah, è questo. Guarda, guarda. Mamma, che tempo ci va, oh, ti ammò, lei ha già sempre tenuto. Mi pare che l'hanno intuzzato l'occhio. Ma che ci sono roba con il trucco? Ah, mamma, ma lei è truccata, è la venta. Ma non mangiato di cazzo. No, non t'era venta. Ma, mamma, ma lei è trucciata. Cosa! 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 ci stavo mettendo ancora un nido no io ho bianca no 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 ma hai visto il trucco che mi metto che tu metti un progetto cazzo 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 ma hai fatto tutto il contrario ma no sei stata zitta ho l'ha fatto buona lì ce ne fa più lungo aspetta mi fa riusci ma per noi non ci siamo metta la coppa ti chiedi che è stato ma ti chiedi che è stato perché questo è buona giro l'occhio ma ti è dilattato magari non 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 Il paese di là di capo, non? Allé! Non c'è qui… Noi, non sai bene. Hai, non sai bene, hai, hai. È un bambarissimo. Anabba! È lì, è lì. As mommanai d'autorico, d'autorico, non mi amè, è lì. Non lo riesco a fare Mia, non si può sbagliare Mi ha fatto il mio occhio Per chi è un occhio? Io gli ho fatto un occhio Che è un occhio? Che cosa fa? Ora le faccio e le faccio Ora le faccio un corretore Ma mi hai fatto un corretore Ma dove? Non è vero L'acqua? ma io non ti amore, mi fai sbagliare non è normale che una femmina si vede troppo da così ma tu sei come hai sentito stupido ma la parola che lo filmo ma guarda qui ma che non sei il buono allontano? non sei il buono, non mi avevo il tuo telefono non devi essere il buono ma non è il buono ma è il buono guarda come ti spiegò guarda come ti spiegò tu ma guarda che il buono è buono ma guarda che il buono è buono vai dire aspetta mamma prendi questo aspetta 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 allora tigrotti il tempo è finito ma pare che l'uomo lo usso seconda parte sticco sticco 各 dusci sticco no fare non credo vediamo come va guarda però non tocchi non penso che in questa situazione vuoi fare che i bambuli e i parcellani che tu stai mangiando oh come on oh sto vendicando mamma non ti senti a me sanno ti senti a me sanno per me sanno non si si i sui non si non si non si non mi ma non si fa fare le mie cose si ma anche ma si ma si non è facile ma si faccia nella camiseta ma cosa è? ma cosi si metto ma no ma ti metto dentro? ma il correttore c'è la cianetta ma tutto aiz ma non è illuminante ah si ma questa roba mi manda aiz 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 o aiz 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 ma aiz 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 Tu avessi capito che Disney sapete aver neppure a copiare questi contenuti pagino Então tuo qua, guarda e croni, tutto questo qua dovete votar lo ha troccato meglio ora è un governo non sono una capina bambolo ma sono illuminante ti ti faccio, non lo so ti lasciate a me non vengo a pagare il bambino vieni a me sento Sto bene? Sto bene? Sto bene? Oh no, no! perchè non è impossibile perchè non è impossibile non è impossibile questo è per non farlo no ma questo non è per non farlo e vediamo un pari di pacche ci vuole ci vuole montare faccio il russetto no il russetto non però non ci un mano non mi piace non mi piace no mi piace ora per questo o questo è il momento anche il momento non ci vuole il momento non mi piace mangi con il gioco fanno a fuoco ma è tutto buono ma è tutto buono è tutto buono Non si non è il bambino Non è il bambino Non si non è il bambino non è che la brucia non è che fa così questo è buono allora allora di grotti il trucco è finito ora ve lo faccio vedere da vicino ecco a voi il risultato fa vedere butta il bacio butta il bacio e la caputa il bacio con questo russetto non è che un po' Grazie a tutti